Abbiamo qui ora Bomber Kapitonov, allora Eugi come va, come sta andando questo anno sabbatico e sei pronto a riniziare la nuova stagione? Sì, sono sempre pronto, una cosa peggiore è che il campionato scorso è terminato così, quando abbiamo fatto bene, siamo partiti bene di cinque vittori di fila, però speriamo di fare almeno stesso inizio in questo campionato. Come, visto che sei una delle new entry di anno scorso, come ti sei trovato con il gruppo e con il mister? Cosa pensi, fa correre tanto, poco, troppo poco per te? No, il mister inizia fin da subito, quindi iniziamo a correre dal primo giorno all'ultimo giorno, quindi corsa non manca mai. L'ho trovato molto bene con tutti i ragazzi, è diventato la mia seconda famiglia. Invece cosa pensi della società? Comunque è stato riconfermato e ti troviamo ancora qua, quindi immaginiamo che ci troviamo bene. Sì, ci troviamo molto bene, anche perché due minuti fa ho chiesto di cambiare il numero della maglia e quindi... Questa è un'esclusiva per le reti, quindi che numero sarà quest'anno? Quindi era 11, che preferivo fino ad oggi, però stagione prossima sarà 47, c'è un motivo perché... Vogliamo spiegare questo motivo al pubblico o è personale? Sì, possiamo, quindi quando ho fatto il gol e quando facevo il Sultans era una... come si chiama... Ho fatto a caso così, tipo Kalashnikov, ho sparato tutto e quindi quest'anno prendo il numero 47 perché Kalashnikov c'è il nome AK47. Quindi senza mezze misure, difensori avvisati anche per quest'anno, Capitano Veccarico come una molla, ha già iniziato la preparazione. E quindi cosa ti aspetti per il prossimo anno per il Sant'Ermete? Pensi di campionato tranquillo, salvezza, vittoria? No, io punto sempre al massimo, quindi se esco al campo partitella, non partitella, se esco io devo vincere. Quindi io penso e spero che tutti i ragazzi che stanno quest'anno con noi hanno lo stesso pensiero. E noi difensori lo sappiamo bene, infatti usciamo dal campo tutti i giorni ammaccati quando giochiamo contro Capitano, ma va bene così perché poi la domenica segna. Grazie, grazie dell'intervista. Grazie. Siamo qui ora con Marcaccio, il presente e il futuro del Sant'Ermete, vent'anni per lui, anno scorso quanti gol in cinque partite? Una mi sembra. Un gol in cinque partite, quindi ottima media. Quindi Marcaccio, quest'anno quali sono i tuoi obiettivi personali? L'obiettivo è quello di migliorarmi dal punto di vista dell'intensità, della grinta e spero magari di conquistarmi il posto da titolare e spero di divertirmi perché è da un po' che non giochiamo. La concorrenza è ampia a centrocampo, ma ti farei trovare pronto. L'anno scorso è durata poco, ma come è andata l'esperienza con questo nuovo gruppo? Mi sono trovato molto bene, è un gruppo che faceva ben sperare, quindi sono sicuro che anche quest'anno i nuovi innesti si troveranno bene e faremo un buon campionato. Cosa pensi dei vecchi Mezgur, Merendino, Gattei? Ti aiutano un po' nella tua crescita personale oppure sono pochi di buono e ti menano solo in allenamento e basta? No, sono bravissimi. Anche fuori dal campo mi aiutano molto, quindi sono contento che ci siano anche quest'anno. Cosa pensi invece della squadra? Pensi potrà far bene quest'anno oppure avremo più difficoltà, cinque vittorie sono un'illusione o possiamo continuare su quest'onda? Io sono sicuro che possiamo continuare su quest'onda, però le cinque partite dell'anno scorso sono passate, quindi dobbiamo pensare da zero di ripartire, però abbiamo le carte per fare bene. Sappiamo che sei un corridore, che corri spesso, quindi ti farei trovare pronto per lunedì al campo? Sì, sono pronto.